Pronto, Pasqua, so Ciro. Ho già trovato chi sostituisce un vetrino a nostro cellulare portatile. Oh, è vero, ma so capaci. Capaci? Sono superiori. Ah, allora ci porto Samsung. Bravo, portancello. E chi so? Cartoli informatica. E ho prezzo? Scrivi, Pasqua, scrivi. Vetrini Samsung 50 euro. E prezzi speciali per vetrini iPhone, Nokia LG. E gli amici ho San. E d'ingello tu? Cartoli informatica. Di ottone fattiboni 162, Dragoncello. Telefono 06-5216-229. Ma vuoi? Pasqua, sino Babà.